wow quanti dadini ma che cosa servono max puoi costruire qualsiasi cosa con questi dadini perfino te stesso ce la fai ma certo che si comincio con le ruote ho bisogno dei cerchi e e e e e Grazie a tutti. Mi mancano alcuni dadini. Va bene, te li porto io. Grazie a tutti. Mmm, manca ancora qualcosa. Oh Max, hai fatto proprio un ottimo lavoro. Evviva!